Siamo a Rimini, in Piazza Cavour, nel centro storico, e stiamo entrando al PART, i Palazzi dell'Arte di Rimini. Benvenuti, eccoci. Come vi dicevo, siamo al PART, i Palazzi dell'Arte di Rimini, che ospitano la collezione della Fondazione di San Patrignano. È una collezione di opere tutte donate a favore della comunità, e in caso un domani di necessità straordinarie, possono essere vendute. Qui partiamo con un'opera site specific dell'artista britannico David Tremlett, che ha studiato la storia, i colori dei palazzi di Rimini, e ha realizzato questi nastri, con una pittura speciale, che ci accolgono e rendono questi spazi, che sono veramente molto alti, più intimi, mi viene da dire. Più, sì, accoglienti. Ecco, è un ingresso e deve accogliere. Nella prima sala, qui, vediamo l'opera, secondo me, più iconica di tutta la collezione, del significato di questa collezione. Questa collezione è una raccolta di opere tutte donate, per cui troviamo di tutto, dal video alla scultura, all'installazione, perché proprio il fil rouge non è un gusto individuale o una scelta individuale, ma è una raccolta di tante donazioni. E di conseguenza abbiamo enfatizzato molto di più il significato delle opere, più che il gusto che le potesse unire. E qui siamo di fronte a un'opera assolutamente conosciuta, tantissimo visivamente, diciamo, che richiama, tutti penso che l'abbiamo vista, di Vanessa Biccroft, che è un'artista italiana, che vive a Los Angeles, che ha lavorato sempre molto sulle performance, per cui sul coinvolgimento del pubblico nell'opera d'arte. Entriamo nella sala dell'Arengo, più di 500 metri quadri di sala straordinaria, che è stata lasciata assolutamente integra, perfetta, non è stata modificata. Ci siamo semplicemente inseriti con rispetto, mi viene da dire. L'intervento di ristrutturazione del part è stato affidato all'architetto Luca Cippelletti, che ha curato tutti gli aspetti, anche proprio gli aspetti più piccoli, che possono essere dalla forma della panca a tutti gli elementi su cui sono allestite le opere, e anche a questa gigantesca vela che taglia lo spazio in due. Attraversa la sala, da un lato ospita lo straordinario affresco di Giovanni da Rimini, che era stato collocato all'inizio nella chiesa di Sant'Agostino, di cui si vede il campanile lì, attraverso la bifora. Qui abbiamo il giudizio universale, appositamente è stato situato con delle opere molto rispettose intorno, dando la possibilità di enfatizzare proprio la parte più spirituale, il significato spirituale di quest'opera. Per cui l'allestimento di questa sala è stato pensato per avere tutto lo stesso tono di voce. Tornando all'ingresso dalla porta, è stato pensato come un cannocchiale, con l'opera in fondo, che è difficile da vedere perché una parte integrante dell'opera è proprio la luce che si riflette, ed è l'autoritratto di Michelangelo Pistoletto. È un'opera che ci ha donato il maestro, è un'opera degli anni Ottanta, un'opera estremamente significativa. Abbiamo degli artisti giovani qui, abbiamo Diego Perrone, abbiamo Velasco e abbiamo un ricamo di Vezzoli. E poi arriviamo, come dicevo, a Michelangelo Pistoletto. Michelangelo Pistoletto in quest'opera, in pratica, è un precursore dei selfie, perché è duplice il livello di lettura. La superficie specchiante, dove ciascuno di noi si riflette e entra a far parte dell'opera, ma poi anche questo è un autoritratto, per cui, il selfie è un autoritratto, per cui io adesso che sono riflessa qui, faccio parte dell'opera. Di conseguenza, proprio questo racconta come l'opera sia comunicante, sia coinvolgente, perché io entro in quest'opera e ne vengo a far parte. Qui abbiamo messo insieme delle opere fotografiche, abbiamo Grazia Toderi, con uno stil dal video della Scala a Milano, e abbiamo un'opera di Ibrahim Mahama, che è un artista del Ghana, e cosa racconta lui in quest'opera? Racconta la storia dei sacchi, dove viene messo dentro il cacao, e che poi viaggiano per tutto il mondo, ma racconta anche la storia della donna che porta il sacco. Le donne lasciano i loro villaggi e si scrivono o si fanno scrivere sul braccio il nome del villaggio e il nome della famiglia, perché se dovessero perdere la vita, almeno qualcuno può avvisare il villaggio e la famiglia. Per cui quest'opera ha proprio questo significato di provenienza, di come la pelle umana e il sacco di juta vengano in qualche maniera utilizzati alla stessa maniera per raccontare la provenienza di chi li sta trasportando. Vi aspettiamo al PART, del Centro Storico di Rimini, in Piazza Cavour. PART. PART. which